azienda agricoli campi campo vulcano un vino di solo suolo vulcanico nella zona del suave è molto presente ed ha sempre dei vini molto buoni e longevi siamo a dillasi io sono flavio pra sono il titolare dell'azienda agricola i campi e vi aspetto per fare una degustazione basta che scriviate una piccola mail a hospitality chioccio leicampi punto it grazie a tutti e un brindisi a tutti voi